Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Ha rischiato di morire un uomo di 50 anni in vacanza a Fondi che ieri mattina intorno alle 6 ha deciso di tuffarsi in mare in zona capratica nei pressi della Caretta Beach. Immediato il malore e lo sbracciare per chiamare soccorso, la fortuna del turista è stata che sulla battigia ci fosse un bagnino libero dal servizio che stava facendo una passeggiata con il suo cane. L'uomo non ha esitato a buttarsi in acqua e a salvare il tizio di 50 anni che poi è stato portato precauzionalmente presso l'ospedale di Terracina. Le sue condizioni di salute non sono apparse preoccupanti. Gli incendi, complice anche il caldo di questo periodo estivo, rimangono una piaga per il territorio. L'ultimo registrato in ordine temporale nel sud pontino è quello che ha preso vita ai margini dell'Appia, a due passi dal centro abitato di Itri, nella giornata di domenica. Le fiamme in questo caso sono arrivate all'ambire e anche la carreggiata dell'Appia. Va tenuto presente che sempre sulla statale, in zona Itri, direzione Fondi, nella tarda serata di sabato, era partito un altro rogo ai margini della strada. Un incidente ha tenuto Fondi con il fiato sospeso nel tardo pomeriggio e nella prima serata di sabato. Ferita una donna di 32 anni del posto che ha avuto un sinistro autonomo in pieno centro abitato, ovvero in via Madonna delle Grazie. Sul posto i sanitari del 118 con un'autoambulanza e un'automedica che hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l'intervento dell'eliambulanza atterrata tra le case in zona Spinete. La ragazza, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata presso l'ospedale Gemelli di Roma, dove è tuttora ricoverata e in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e la polizia. Ritornano le crociere a Gaeta e con esse anche il turismo, seppur mordi e fuggi, che queste portano sul territorio. L'appuntamento con il primo attracco dopo diverso tempo è per lunedì prossimo, 25 luglio, quando a Gaeta approda la Royal Clipper, il veliero da crociera di 5 alberi e 132 metri di lunghezza, che arriverà a terminare il suo viaggio nel porto di Civitavecchia. La nave da crociera può imbarcare fino a 200 passeggeri e, prima di arrivare a Gaeta, toccherà anche le sponde delle isole pontine di Ponza e Palmarola. Arriva la grande festa per la Madonna della Civita che si svolge a Itri, tanti gli appuntamenti che vedranno il proprio apice nella giornata di giovedì 21 luglio. Ma la festa in paese inizia domani con il rosario delle 18.30 e l'apertura della nicchia. Mercoledì poi è prevista la processione alle 10 del mattino e la messa presieduta alle 19.30 dal vicario generale diocesano Don Mariano Parisella. La festa si conclude nella giornata di venerdì alle 9.30 la messa celebrata dall'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Poi la nuova processione per le vie del centro e alle 22 il concerto dell'Expo Robby Facchinetti. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e poi la reposizione del busto. Questa era la nostra ultima notizia. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.